Perfetto, sì grazie Luca in diretta da Pescara con Stefano Raiola. Stefano buon pomeriggio coach, grazie per aver accettato il nostro invito in diretta al telegiornale per anticipare quella che è la partitissima di domenica perché contro Fabriano c'è in palio tanto il secondo posto e l'accesso alle final eight. Buon pomeriggio a tutti, domenica sarà una partita, è una partita importantissima, è un vero e proprio spareggio per poter poi sperare di arrivare secondi perché come ti dicevo prima purtroppo non è l'unica partita che dovremo noi vincere, dovremo continuare comunque a vincere, ma intanto come abbiamo fatto fino ad oggi dobbiamo pensare una partita alla volta, Fabriano è un'ottima squadra quindi dobbiamo stare molto attenti e molto carichi. Calendario ha detto che avete giocato nove partite di cui sei fuori e venite da cinque vittorie consecutive, questo basta per dire che siete in un ottimo momento. No, che siamo in un ottimo momento avendo vinto cinque partite consecutive questo è sicuro, però come ho detto ai ragazzi non è, anche le partite in casa hanno le stesse insidie di quelle fuori casa, anzi forse diverse ma forse se ne hanno anche di più quindi dovremmo stare, continuare ad essere concentrati, ancora più concentrati, ancora continuare il nostro percorso di crescita perché comunque siamo migliorati partita dopo partita e se possibile eliminare quei piccoli difetti, con quei difetti che si sono visti nelle ultime partite e fare sempre meglio. Fabriano, squadra che conta molto sull'individualità, l'UniBasket, la tua squadra Stefano guardando anche un po' le statistiche è una squadra che gioca d'insieme, Fabriano basterebbe, la faccio facile, limitare Gatti, Paparella e Filiberto Dri? Allora come hai detto tu come statistica è vero che loro sono, è lampante che loro tre e viaggiano più di 15 punti di media partita, però assolutamente non basta fermare loro perché queste sono le partite in cui se dopo si fa fare la partita magari a giocatori che sono abituati a fare 6-7 punti di media aumentano il loro bottino rispetto alle partite precedenti va in difficoltà, non penso che possa bastare fermare solo Paparella o solo Dri ma bisogna fare come al solito una difesa di squadra, un gioco di squadra anche dal punto di vista offensivo e una partita che va a giocare a 360 gradi. Facendoti l'imbocco al lupo per questa partita molto importante Stefano chiudo con un po' di rumors di mercato che vogliono Stefano Raiola pronto il prossimo anno a sbarcare in Serie A. Innanzitutto ti dico crepi il lupo, poi i rumors di mercato le inventi che ti piace un sacco Va bene, va bene, se l'hai cavata abbastanza bene Luca Stefano Raiola sull'ultima domanda dove però c'è qualcosa di vero, per il momento è tutto, ti restituisco la linea a te.